A pochi chilometri da Rovigo troviamo un incredibile ristorante abbandonato fondato da Luigi Stecca e chiuso purtroppo nel 2014. Due enormi aerei dominano la parte principale della struttura ma non mancano tanti altri dettagli ad impreziosire il luogo. I clienti potevano mangiare all'interno degli aerei in un ambiente estremamente affascinante. Il luogo è ormai abbandonato da tempo ma da poco ha un nuovo proprietario che lo farà ritornare ai vecchi pasti. Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, se possibile, è all'interno della struttura che la location dà il meglio di sé. Dedicata a Michelangelo e a Leonardo da Vinci, l'interno è pieno di riproduzioni di affreschi e statue, riproduzioni talmente tanto fedeli da lasciare a bocca aperta. Questo è il ristorante abbandonato Michelangelo da Vinci.